Ha detto lavoro. Sì, esatto. Sei un alchimista di stato e devi obbedire. Il comandante supremo ha dato tre ordini. Il primo di questi, cercare Scar. Devi solo trovarlo. Eliminarlo sarà compito mio. Il secondo è simile al primo, ma devi rintracciare il dottor Marco, che probabilmente ha fuggito con Scar. Che cosa? Il dottor Marco è con Scar? E dopo che lo avrai trovato, tutto il resto spetterà a me. E ora veniamo al terzo. Dovrai far scorrere del sangue qui a Briggs. E per quale ragione dovrei farlo? È esattamente ciò che è successo a Ishval. Lo scopo è uccidere e disseminare odio e sofferenza nel paese. Non potrei mai arrivare a fare... Sei diventato un cane dell'esercito e non sei pronto ad ammazzare? Io sono pronto a non ammazzare. E così questa è la tua linea? Beh, in fondo anche nel seguire quel principio, c'è onestà? Lavora per loro pur sapendo quello che vogliono fare. Ma lei lo sa qual è la loro intenzione. Quelli vogliono... A me interessa vedere il mondo cambiare. Eh? C'è risoluzione e risoluzione, volontà e volontà, vita e vita. Umani e homunculus. Chi tra questi vincerà? Che cosa sceglierà il mondo? Se gli umani dovessero soccombere agli homunculus che si definiscono umani evoluti, sarà davvero un momento storico. Io voglio solamente vederlo accadere. Non riesco a capire. Lei è un essere umano. Come può allearsi con degli homunculus? Ho un ottimo motivo. Perché mi lasciano usare la mia alchimia senza alcuna riserva. Per me lei è un pazzo. Vedi, acciaio, lo so benissimo di essere un eretico. Ma se dovesse riuscire a sopravvivere uno come me, significherebbe che al mondo sono stato scelto solo io. Io tra gli altri. Metto in gioco la mia vita in questa battaglia. Nessuna esistenza vale la pena di essere vissuta più di questa. Mi dispiace. Non riesco a capirla. È davvero un peccato. Ma sapevo già che gli alchimisti erano egocentrici, perciò parlerò alla parte di te che è al centro di te. La desideri con così tanta intensità che la stai già pregustando, non è così? Se accetti questo incarico sarai ben ricompensato. Ti darò quello che desideri. Te lo prometto. Una pietra filosofale.